che accomunano certi paesi. Che cos'è una forma pensiero? Commento Se noi potessimo osservare la Terra dallo stesso punto di vista dei maestri immateriali, vedremmo come a raggi infrarossi le masse vibrazionali incarnate nel nostro pianeta. Vedremmo di un colore diverso le vibrazioni che accomunano certi paesi, certe comunità fisiche e quelle che accomunano altri paesi, altre comunità fisiche. Questo è dovuto al fatto, per esempio, che nella società occidentale molti sono attratti dal desiderio di possedere delle cose e creano una vibrazione di massa tipica della forma pensiero occidentale. La forma pensiero è quindi una zona vibratoria comune a tutte le persone che vivono una certa spinta interiore che hanno cioè una forma coscienza simile. Grazie a tutti. 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 Grazie.